Si è conclusa nel primo pomeriggio l'udienza in programma sul processo del crack di Banca Etruria riguardante il filone del falso improspetto. È stato il PM, Giulia Maggiore, questa mattina nella sua requisitoria, a chiedere la condanna ad un anno e mezzo per l'ex presidente Giuseppe Fornasari e per l'ex direttore Luca Bronchi ad un anno per Davide Canestri, che era responsabile del Risk Management. L'accusa per tutti gli imputati riguarda le missioni delle obbligazioni del 2013 emesse in due momenti durante i mesi estivi ed autunnali. Bond che poi diventarono carta straccia con il decreto di risoluzione della banca il 22 novembre 2015. Secondo la tesi della Procura, nel prospetto sui bond predisposto da Luca Bronchi, quest'ultimo avrebbe volontariamente omesso, assieme a Fornasari e Canestri, di segnalare agli investitori la drammatica situazione finanziaria dell'Istituto di Credito Aretino. Situazione che sarebbe stata invece poi segnalata a Consob in una lettera del 3 dicembre 2013, quando Banca d'Italia imponeva a Etruria la fusione con un altro istituto di elevato standing. Il prossimo 6 aprile sarà la volta delle difese e la sentenza potrebbe essere vicina.